Eccoci a Campotto. Questo è il nuovo Museo delle Valli d'Argenta. Scopriremo in cosa è possibile vedere all'interno del nuovo museo, rinnovato e ricco di nuove tecnologie, ma soprattutto come visitare una delle oasi naturalistiche più interessanti d'Italia. Siamo in compagnia di Nerina Baldi, direttrice dell'Ecomuseo delle Valli d'Argenta. Ciao Nerina. Benvenuti. Vuoi raccontarci gentilmente i motivi per cui un turista dovrebbe visitare l'Ecomuseo di Urgenta? In primo luogo siamo al Museo delle Valli, che è il punto di accesso all'intero Ecomuseo al territorio argentano. In secondo luogo perché il punto di accesso dell'oasi di Val Campotto, sesta stazione del parco del Delta, e che presenta nell'entroterra la presenza delle acque dolci, mentre invece quasi tutte le stazioni prossime alla costa sono salmastre. Il Museo delle Valli l'abbiamo appena rifatto e presenta due filoni tematici principali. Una dedicata all'uomo, al rapporto dell'uomo con la valle, quindi agli strumenti del lavoro, fino alle tecniche di bonifica. L'altro invece filone rappresenta la parte naturalistica, quindi con strumenti, con un approccio di tipo emozionale, cognitivo ed esperienziale, consente di conoscere prima l'ambiente naturale e poter andare a fare attività di escursione, ma anche attività di laboratorio, in oasi. Ciao Francesca! Ciao Chiara! Cosa stai facendo così in alto? Da questa postazione possiamo vedere i quattro ambienti tipici dell'oasi. Guarda, quello è il bosco, poi c'è il prato umido, il cannetto invece, e il lamineto, quello laggiù. Il lamineto che cosa sarebbe? È tutte quelle foglie galleggianti di ninfea che creano un ambiente particolare che si chiama lamineto. Sì! 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 a tutti di visitare l'Ecomuseo di Argenta, un luogo speciale in cui natura e uomo convivono in armonia e dove la pace e il silenzio regnano sovrani.